Saluto al Duce! questo che è successo nell'ultima parte spero l'abbiate vista vi voglio dire una cosa allora io adesso sto pensando che la situazione della Vichy France del cazzo qui mi da un po' fastidio perché? perché la Vichy France qui non ha truppe le uniche truppe che hanno sono qui e qui è la sua capitale di Casablanca nonostante ciò non ha truppe la Vichy France è con noi nell'asse contro tutto il mondo e la maledettissima Vichy France ha pensato di non dover affatto fortificare le loro province qui verso l'Atlantico il problema è che gli Stati Uniti o gli inglesi e questo lo faranno perché sono sicuro che un giorno lo faranno potrebbero mandare qualcuno qui che comodamente si prende uno o due porti ma poi ci vengono ad invadere il Nord Africa oh l'ho detto con una voce stupidissima comunque sia ci vengono ad invadere il Nord Africa come se non lo fosse e questo gli da accesso a territori ai quali noi avevamo tolto l'accesso veramente chiudendo qui Gibilterra e Suez quindi cosa vogliamo fare noi dobbiamo per forza buttare qualche divisione qui per evitare un grande sbarco alleato adesso io avevo prodotto due di Garrison una di queste però era per Gibilterra non basterà perché se ne mettiamo una qui e una qui una qui ci manca quindi adesso dobbiamo per forza portare in giro un paio di divisioni perché dobbiamo un attimo vedere cosa fare quindi facciamo un attimo questa cosa ok prendiamo le due Garrison ce le carichiamo su poi andiamo qui in Sardegna dove qui non servono più queste due e ce le portiamo dietro perché le Garrison resistono un po' contro gli sbarchi mentre molte altre no quindi vediamo un attimo qui non si può non si può non si può qui ci si arriva un attimo vediamo un attimo qui cosa facciamo allora qui abbiamo Ziggallo e Serena messe ok dobbiamo ribasarci qui ok non so se questa la tolgo per ora la lascio lasciamo una Garrison il resto ce lo portiamo ce ne andiamo qui credo che possiamo andare nel loro porto questa rimane a Casablanca queste ce le portiamo ci muoviamo qui tac i supplies riprenderanno esatto da Casablanca quindi la Vichy France ci supply alle truppe e noi ce le mettiamo qui a proteggere i porti e spero che non ci saranno ulteriori problemi ecco perché sarebbe una gran cazzata non possiamo mica rischiare che poi mentre noi abbiamo da fare chi cazzo è questo i paracadutisti americani ma da dove vengono porca miseria qui in Giappone come sta tra l'altro in Giappone sta ancora bene la situazione qui il Pacifico gli Stati Uniti ok il Giappone gli ha occupato un'isoletta agli Stati Uniti credo siano tutti i victory points per loro sì e questa roba del Giappone è ancora del Giappone questa roba degli Stati Uniti l'ha presa il Giappone quindi per ora il Giappone sta avendola meglio anche se di poco se diciamo che in questo gioco in genere il Giappone non vince perché non ce la fa è un peccato ma non ce la fa il Giappone sta qui a fare un cazzo giustamente gli avevamo preso Singapore ora si sono fermati sì sì vabbè gli potrebbero anche togliere questi due pezzi qui gli avevamo detto anni fa di attaccare Calcutta ancora non l'hanno fatto però si stanno avvicinando eh sì non è male cosa sta facendo il Giappone al momento questo è ancora qui in Somalia ok non fa niente abbiamo finito di produrre qualcosa forse no ma sì invece sì non so esattamente cosa ma qualcosa è successo infrastruttura avevamo messo infrastruttura produrre che cazzo avevamo messo non ho idea perché questa è pronta da un pezzo non c'entra nulla ah ok sì stavamo upgradando ad esempio lui o uno di questi altri Panzer che abbiamo qui abbiamo upgradato tutto che cos'altro c'è da fare non lo so al momento non lo so se mettessimo questi qui avremmo un eccesso incredibile ok vediamo un attimo allora con 69 e C noi che cazzo ci facciamo ah ok i convogli sono pronti ecco avevamo messo i convogli a produrre adesso sono pronti secondo lui ci servono i bomber che stiamo facendo e altri Panzer il problema con i Panzer era che non volevamo sprecare il Manpower se vi ricordate ora di Manpower ne abbiamo un po' ma io comunque non è che ci credo tanto certamente qui abbiamo delle divisioni sperdute che potremmo poi utilizzare si diciamo che secondo me divisioni di Panzer se ovviamente non si è in territorio strano ma qui c'è molta pianura oltre a questi punti qui ma noi non credo passeremo di qua che è Marsh dove i Panzer non si muovono molta pianura foresta eccetera lì i Panzer funzionano molto bene quindi se noi con questi carri armati si credo che possiamo fare buone cose quindi perché non mettiamo che ne so questi 4 cavallucci ad upgradeare in Heavy Armor e questo fino ad aprile per due mesi e mezzo quasi ci toglie tutto questo C poi ci serviranno vicino a questi ovviamente come abbiamo fatto qui due motorizzate un SP Artillery se ne abbiamo messi a fare 4 dovremo upgradeare una delle nostre divisioni di fanteria o almeno un corpo d'armata cosa così ecco ad esempio abbiamo questi qui che stanno facendo un cazzo qui in esatto sapete voi dove quindi qui perché non diciamo upgradeate motorizzati esatto facciamo così questi 4 li facciamo diventare motorizzati più SP Artillery esattamente e l'anti-tank che rimane certo che lo lasceremo lo lasceremo lì esatto questa è una buona idea e magari abbassiamo la priorità dei bomber e così finiscono prima loro questa mi sembra una buona strategia per avere un altro corpo di panzer completo gli anti-tank purtroppo non ci serviranno il problema qual è? il problema è che se avessimo questa tecnologia qui potremmo mettere addirittura 5 brigate in una divisione ma non ce l'abbiamo e non mi sembra valga la pena di ricercarla soltanto per un corpo d'armata quindi lasciamo stare bene dopo aver blaterato per 10 minuti vediamo un po' i dischi e i loro materiali rari ma io temo che questi fanno a brutto fine se non glieli diamo per ora glieli diamo poi vediamo ok abbiamo finalmente le tecnologie per fare i paratroopers adesso è un peccato perché abbiamo appena messo a fare tutte queste belle cose qui ma questo costa manpower 16 cazzo di manpower quindi quasi un mese di manpower una la dobbiamo fare no iniziamo a metterne una in coda iniziamo a metterne una in coda vediamo 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 un po' cosa succede ah guardate guardate qua che cazzo stanno facendo ok perfetto se ne sono andati a cagare questo tedesco qui so io dove sta andando sono sicuro che sta andando qui perché avevo detto proviamo a vedere se io dico ai tedeschi di mettersi qui se lo fanno davvero ovviamente adesso ci sta mandando soltanto una divisione perché non voglio far togliere i tedeschi troppe divisioni da qui perché guardate un attimo la situazione mentre il tempo scorre la situazione qui è che se chiedete a me i tedeschi non hanno neanche tante truppe quanto ne dovrebbero avere oh perfetto guardate qua l'infrastruttura che avevo messo a fare è pronta questo è stato è stato il primo giro infatti qui adesso abbiamo quasi tutto l'icci libero di infrastruttura che avevamo messo a fare e l'infrastruttura adesso qui non è ancora pronta perché ci mette un po' di tempo a rigenerarsi una volta costruita però presto l'avremo e poi ci sarà la domanda che cazzo facciamo fatemi un attimo vedere dove che ecco qui 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 avevo messo qui esatto salivamo di qua tipo e questa l'avevamo messa nuova questa l'avevamo messa nuova questa l'avevamo messa nuova ok quindi mettiamo qui a farne ancora se vogliamo ok qui ne avevamo messa altra qui 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 si dai iniziamo a lasciare così perché tra poco potremo vedere poi quel che abbiamo fatto non so se vale la pena upgradeare ancora anche questo dai chi se ne frega lo facciamo anzi vediamo qua esatto ho fatto così cosa per farci una specie di linea fino al fronte ecco c'è che c'è il bar budapest qui siamo andati qui siamo andati qui qui debra chenna qui quest'altra qui quest'altra qui e dove nient'altro ridicolo mettiamo anche mucacevo dai benissimo andiamo avanti si non è stata sicuramente una bella cosa da vedere mica metto a fare l'infrazzatura ma bisogna fare anche questo ok benissimo un po' più di manpower per pochi giorni ma meglio di niente bene scende l'IC perfetto perché sono pronti anche i primi interceptors la spagna nazionalista sono scattati i ribelli e cazzo lui che è veloce forse no non è veloce al momento perché ci sarà il fango perché è marzo lui da qui invece è molto veloce e poi torno indietro e vediamo ok l'IC è libero perché non si sa abbiamo finito i primi upgrades guardate qui li avevamo appena messi a fare e sono già pronte le motorizzate incredibile ma vero ci metto davvero poco cioè sarei tentato ad upgrade tutte le motorizzate però non avrebbe senso perché le altre poi non sono up to date ecco se adesso vediamo qui 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 ok questo mi direbbe di fare un'altra divisione di paratroopers che ci costa altri 16 manpower porca miseria ma lo facciamo ma lo facciamo e il resto va qui perfetto ad aprile poi saranno pronti anche i panzer ok non voglio più materiali rari meglio per noi e esce un'altra cosa di ribelli meno male che sono qui così possiamo andarle a prendere subito e poi te le torno a casuccia benissimo questa è una parte nella quale bisogna aspettare molto perché ovviamente abbiamo un po' dito e un po' libero ma alla fine qualsiasi cosa che stiamo facendo perfetto questa che è il 44 perfetto qualsiasi cosa stiamo facendo è per prepararci alla guerra con i soviet una tecnologia che servirebbe molto 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 in fretta è questa qui ma purtroppo non possiamo ancora perché la large front l'abbiamo trascurata però finisce il 7 aprile superior firepower come dicevano vale la pena magari no questa è inutile cazzo come facciamo queste qui potrebbero servire ma non lo so ecco meglio questa meglio questa perché research efficiency e visto che ci siamo miglioriamo anche i radar benissimo credi che gli ufficiali sono arrivati al 119% è un valore oh cazzo porca puttana qui c'è un altro porto eh mo son cazzi ora son cazzi ragazzi ragazzi questa non me l'aspettavo porca puttana qui c'è un altro porto come facciamo eh come cazzo facciamo ehm queste non son pronte porca puttana ok qui c'è ok qui c'è un sacco di persone ma ma voi andate rapidamente qui no sei fermo ci andate magari in 5 ah porca miseria vedete questo è stato un grandissimo errore da parte mia ok voi andate subito qui ecco qui l'ampresa in quanti sono vabbè per ora è soltanto una dai vediamo cosa facciamo dai ehm li portiamo tutti per ora li portiamo tutti e la domanda è dove cazzo sbarchiamo ok dobbiamo dirgli di ribasarsi qui a quate vediamo un po' se ci arriviamo e non incontriamo qualche flotta wow sydney i giapponesi hanno preso sydney speriamo di non incontrare qualche flotta inglese vediamo un po' se ci arriviamo un po' di supplies che abbiamo poi cazzo non ha più supplies questa eh questa non ci voleva dobbiamo per forza mettere un convoglio da atene si da atene a kuwait porca miseria porca 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 miseria stiamo per perdere tutto ciò che abbiamo perché ora che arrivano questi ragazzi qui ci sarà molto da fare anzi ti muovi prima qua grazie ecco 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 adesso sono tornati i supplies perfetto 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 abbiamo la large front quindi adesso possiamo ricercare questa questa qui ma non lo so questo è perfetto perché ora inizio gli upgrades l'operational level command structure è head radar potrebbe servirci queste qui servono ma non sono indispensabili la supply production è più importante forse si benissimo guardiamo un attimo cosa succede ok ehm si no si no no si si no non so per bene cosa fare ok allora credo che proviamo a metterci un attimo qui speriamo che bastano i supplies tu vai di qua tu vai di qua voi tornate su muovete qui aspettiamo qualche giorno dobbiamo provare ad eliminarla senza che riesca a scappare in territori vari heavy tank heavy tank perfetto questo è perfetto questo è perfetto benissimo wow il giappone sta facendo grandi cose noi siamo pronti per attaccare quindi attacchiamo con 8 10 di width più naturalmente 4 width 8 18 perfetto stiamo andando benissimo e vediamo che abbiamo una battaglia molto 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 buona perché 18 width noi su un campo con 20 li distruggiamo guardate il morale loro come scende perfetto abbiamo salvato la giornata e li abbiamo distrutti benissimo questo è quel che volevo tu ovviamente ti stai qua ma ci stanno bombardando da chissà dove ma qui loro hanno probabilmente basi navali eccetera non vale la pena di prendere questa roba qui ve lo dico subito perché ci sarebbe troppo da proteggere però questi due porti bisogna proteggerli questo lo sappiamo adesso si credo che si questa la facciamo andare quindi messina la facciamo andare le altre se ne stanno qui tu te ne torni a casuccia tu te ne torni a casuccia il marine ce li portiamo benissimo ragazzi abbiamo evitato che gli stronzi ci tornano a rompere i coglioni qui in medio oriente e sì per fortuna siamo riusciti a risolvere benissimo adesso che qui lì ci è libero perché abbiamo upgradato le nostre divisioni di panzer questi sono quasi pronti possiamo buttare tutti in upgrade perché adesso ci upgradano i esatto i panzer gli heavy tanks benissimo ora aspettiamo un attimo che torniamo a casa questi tra l'altro sono da cancellare benissimo sì sì mi piace e ora questi sono ahead ah sì serviranno questi il throughput dei supplies è molto importante per quanto riguarda il fronte con i russi perché se non va bene il throughput non portiamo abbastanza supplies in avanti e poi facciamo la fine dei tedeschi che non riescono a portarsi supplies con ciò che ci rimane non so se magari ah ah magari iniziamo ad upgradeare il fatto degli heavy cruiser perché abbiamo la possibilità di produrre molti heavy cruiser se volessimo ma non abbiamo le tecnologie quindi voglio mettere queste tre a fare sperando di poterle fare presto bene adesso l'ultima cosa che faremo è aspettare che qui le divisioni si tornano dove devono andare e l'abbiamo scampata perfetto tre tecnologie pronte queste tre tecnologie le tecnologie di special forces mass assault che possiamo lasciare dentro mechanized offensive serve anche questa quindi si ok la lasciamo dentro dai bene una volta che tu sei tornato a casuccia e anche e anche queste sono pronte perfetto ci hanno affondato il convoglio qui ma non ce ne frega perché lo possiamo anche cancellare tra poco ebbene perfetto una lasciamo qui le altre le carichiamo su e le riportiamo a split la facciamo ribase eh si perfetto non credo esatto qui ne rimangono due si sono soltanto due non credo adesso abbiamo altro da fare oltre che vedere che il central planning che non trovo eccola qui si la lasciamo dentro i mitici cosa che ho finito qui ah l'SP artillery che abbiamo upgradeato ho finito esatto e in upgrades siamo messi perfettamente esatto benissimo quindi abbiamo fatto tutto abbiamo evitato che ci sbarcano qui e siamo già arrivati ad aprile quindi qui presto inizieranno le feste e speriamo che non faranno loro la festa a noi i tedeschi si stanno preparando meglio hanno molto più divisione adesso sul fronte che inizio puntata secondo me sì 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 spero andrà bene ok ce l'abbiamo fatta abbiamo salvato la giornata ma anche per questa parte è tutto ciao e alla prossima